C'era una volta un falegname che si chiamava Geppetto ed era un uomo povero ma aveva un grande desiderio di avere un piccolo burattino. Appena finito di costruirlo, questo burattino ha cominciato di fare un sacco di guai. Dopo un po' Pinocchio, il burattino, assicura a Geppetto il papà che l'indomani andrà a scuola come tutti gli altri bambini. Geppetto, allora prepara dei vestiti di carta per il suo piccolino, vende la sua giacca per comprare a Pinocchio un abeccedario. Andando a scuola Pinocchio, viene distratto da un teatro di marionette. Per comprare il biglietto, vende il suo abeccedario per cinque zecchini o monete d'oro. Alla fine, il burattinaio Mangiafuoco decide di regalare a Pinocchio le monete d'oro e quindi il nostro burattino comincia a ritornare a casa. Ma questa volta Pinocchio è vittima di due personaggi pericolosi, il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe deciderono di imbrogliare Pinocchio. A quel punto appare il grillo parlante e dice a Pinocchio di non fidarsi a chi gli promette di diventare ricco dalla mattina alla sera. Ma Pinocchio non lo ascolta e segue i due imbroglioni. Dopo pochi minuti arriva ad aiutare Pinocchio una fata molto bella e ha chiesto a Pinocchio di dirle «Sei andato a scuola stamattina!». Pinocchio ha detto «Ma certo che ci sono andato!». Allora il suo naso cominciò a diventare lungo lungo. La fata ha spiegato al piccino che esistono due tipi di bugie, quelle con le gambe corte e quelle che fanno allungare il naso. Il naso di Pinocchio è diventato lungo lungo. Pinocchio torna a casa da Geppetto con la fata. Il giorno dopo Pinocchio si ritrova di nuovo nei guai che verrà addirittura imprigionato. Per ancora una volta la fata lo aiuta a liberarsi e tornano a casa. Nel frattempo Geppetto non sapendo dove stava Pinocchio aveva deciso di attraversare l'oceano con una barca. Ma lì nell'oceano viveva un gigantesco pesce cane e aveva inghiottito la barchetta di Geppetto, lui incluso. Geppetto, costretto a rimanere nella pancia del pesce cane, si sente completamente infelice. Pinocchio aveva incontrato un ragazzo piccolo come lui che si chiamava Romeo. Loro due decidono di partire per i paesi dei Balocchi che si trova oltre il mare dove è sempre fiesta e non ci sono libri o maestri. Dopo giorni e giorni di festa, Pinocchio si trasformò in un asino che viene venduto ad un uomo che lavora nel circo. Durante lo spettacolo, Pinocchio, che ormai era un asino, resta zoppo, dopodiché viene buttato nel mare dove incontra il pesce cane che ha ingoiato Geppetto. Finalmente si sono incontrati e organizzano insieme un piano per poter fuggire. Il pesce cane apre la bocca e Geppetto e Pinocchio scappano per salvarsi. Dopo queste avventure, Pinocchio decise di maturare e di non creare più problemi a suo padre. Finalmente, Pinocchio decide di essere molto bravo e la fata lo trasforma in un vero ragazzo.